Sono felicissimo di essere qua ovviamente, spero di dare il mio contributo per cercare di riportare insieme a questi ragazzi straordinari il Catania dove merita di stare, che non è questa la categoria. Speriamo tutti insieme di far bene e dobbiamo remare tutti insieme per un unico obiettivo che è la Serie B. Speriamo il più presto possibile. Quando penso alla promozione del 2006, quando penso ai gol che ho fatto, quando penso in generale a una serie di cose, la pelle d'oca mi cresce solo quando parla del Catania. Nulla a togliere altre piazze importantissime che sono state magari Genova o altre piazze che ho giocato, però per me essendo siciliano è qualcosa di più. Penso che possiamo fare benissimo questo modulo, poi dipenderà anche dal mister se vuole giocare così. Diciamo per me che sono un difensore, per noi è importante partire con la palla dalla difesa per cercare di tirare fuori i giocatori avversari. Dobbiamo cercare di essere bravi a tirare fuori questi avversari per trovare gli spazi per i nostri attaccanti, i nostri centrocampisti che poi sono loro che devono fare la qualità, devono avere qualità per fare gol e farci fare la differenza poi in attacco. E' il gruppo, noi non vince solo Marchese e perde la squadra, vince Marchese e perde la squadra. Vinciamo e perdiamo tutti quanti insieme, tutti quanti insieme dobbiamo essere responsabili e capire le nostre potenzialità. In questi tre mesi che mi alleno qua posso dire che ce ne sono tante potenzialità in questa squadra, partendo dai portieri fino al reparto offensivo. Bisogna entrare solo nella mentalità giusta e capire qual è la potenzialità di questa squadra e se l'acquisiamo possiamo fare davvero bene e sono sicuro che faremo bene.